Finalmente abbiamo fatto un piccolo investimento, abbiamo comprato una macchina per fare i fusti. All'officina, nel locale officina, ci sarà una bella festa dove ci sarà solo e esclusivamente la nostra birra. Molti locali ci avevano chiesto la birra alla spina e così noi per entrare sul mercato anche dei fusti abbiamo fatto questo investimento e speriamo che adesso i locali comprano la nostra birra in fusti. L'obiettivo più grande è l'America perché ci hanno contattato che vogliono la nostra birra, abbiamo mandato già dei prodotti, abbiamo mandato già delle campionature e dovremmo fare un accordo con 15 stati americani. Speriamo che vada bene sia con l'America che con l'Inghilterra.